Allora, io ho dovuto ridurre un po' le pretese della democrazia e ho cominciato col dire che dobbiamo parlare di democrazia occidentale nella forma della liberal democrazia o della social democrazia e che non possiamo pensare di esportare la democrazia in tutto il mondo, di pretendere che tutto il mondo sia democratico come intendiamo noi la democrazia. Detto questo, perché la democrazia è un prodotto tipico della modernità, la modernità è un insieme di processi che hanno preso corpo e hanno senso nel mondo occidentale, in Europa prima e poi anche nel Nord America. Detto questo, vi è una lunga serie di questioni definitorie. Che cos'è democrazia? Allora, io ho messo in luce il fatto che per democrazia si intende, prima di tutto, la realizzazione del grande sogno moderno che è l'idea che gli esseri umani vivano in un contesto di chiarezza e di trasparenza, cioè in un contesto in cui non ci sono autorità date che si sottraggono alla critica, ovvero sia ancora più radicalmente in un contesto in cui le istituzioni di potere sono istituzioni volute e costruite razionalmente dagli uomini. Senza questa idea di fondo non ha senso parlare di democrazia. Critica radicale di ogni pensiero autoritario, di ogni pensiero che non si giustifichi davanti alla ragione. Dentro alla democrazia, inoltre, ci sta anche un sistema economico e storicamente, di fatto, dentro la democrazia occidentale ci sta il capitalismo. Il capitalismo non è democratico, non ha una funzione democratica e una genesi democratica. Si fonda sull'individualismo possessivo e si fonda sull'idea che il soggetto è inserito in una trama di relazioni che sono fondate sull'utilità e che questa utilità è statisticamente omogenea, ma solo statisticamente. L'uguaglianza degli uomini non è definita a priori come un dogma, è qualcosa che risulta dal fatto che gli uomini sono genericamente esposti allo stesso modo ai rischi e ai vantaggi che sono impliciti nella forma produttiva capitalistica. Quando io dico secondo occidente, io intendo il fatto che l'occidente di cui parla Hegel, di cui parla Spengler, cioè l'occidente tutto eurocentrico, è finito con la seconda guerra mondiale. O meglio, è finito con i totalitarismi, essenzialmente fascisti, che hanno deliberatamente negato la democrazia. E se non ci fosse stato da una parte l'intervento dell'Unione Sovietica, con tutti i problemi che in quell'intervento erano impliciti, come sappiamo, e soprattutto l'intervento delle democrazie anglofone, cioè dell'anglosfera, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, poi noi la democrazia non l'avremmo qua. E quando parliamo di occidente oggi, non parliamo di quel vecchio primo occidente eurocentrico, parliamo del nuovo occidente a dominanza statunitense. E questo è il primo punto. Questo nuovo occidente a dominanza statunitense, e dunque ha contenuto essenzialmente capitalisti, che era per questo che stavo parlando del capitalismo prima, questo nuovo occidente ha conosciuto dapprima una fase espansiva caratterizzata da un grande peso della politica, cioè la fase dei cosiddetti 30 gloriosi, gli anni che vanno dal 1945 circa al 1975, ovvero sotto il profilo economico, gli anni della ricostruzione, gli anni del cosiddetto compromesso socialdemocratico, gli anni di Bretton Woods, insomma, in qualche modo keynesiani. Diciamo fino al 1975 più o meno. Circa, sì. Dopodiché una crisi che non era trattabile con le categorie e i paradigmi del keynesismo, la crisi della stagflazione, ha generato da parte del capitalismo una risposta diversa, fondata su un altro paradigma, il paradigma neoliberista, che ha avuto all'inizio un enorme successo, cioè ha abbattuto l'inflazione e ha reso il capitalismo vittorioso rispetto ad ogni altra forma di economia, soprattutto rispetto all'economia di comando sovietica, e dunque ha provocato anche il crollo dell'Unione Sovietica, è stato questo paradigma capitalistico assorbito dall'altro grande paese comunista, cioè dalla Cina, che ne ha fatto il proprio nuovo punto di forza, e dunque abbiamo visto che qui c'era una globalizzazione come risultato del capitalismo, non necessariamente della democrazia, ma insomma molti si sono illusi che capitalismo e democrazia siccome stavano insieme nell'Occidente potessero stare insieme anche in tutto il pianeta, il che già la Cina dimostra non è possibile. Poi abbiamo conosciuto la crisi della globalizzazione, dal 2008 in poi, la crisi dei mutui subprime, abbiamo visto che ci può essere una uniformità del paradigma economico mondiale senza che vi sia in alcun modo uniformità dei paradigmi politici, e anzi abbiamo visto che dentro la uniformità del paradigma economico si rafforzava una molteplicità di centri di potere politico armati da uno contro l'altro, cioè il mondo passava da essere un mondo duale come era al tempo della prima guerra fredda, dall'essere stato poi un mondo vagamente unipolare nella fase in cui il capitalismo americano vinceva, agli anni 90 insomma, ad un mondo multipolare che è certamente tutto costruito intorno al paradigma economico neoliberista che poi a sua volta è entrato in crisi. Dentro il mondo uniformemente capitalistico nascono, non sorgono perché c'erano anche prima, nascono, tornano a formare centri di potere politico ma di livello continentale che sono armati l'uno contro l'altro, uno di questi è la Russia, il grande sconfitto della guerra fredda che anche per responsabilità occidentale, poiché gli occidentali non hanno saputo offrire alla Russia una vera pace, a un certo punto attraverso Putin essenzialmente si torna a proporre come una potenza imperiale, vuole trovare di nuovo intorno a sé l'unità di tutti quelli che sono russi, dunque la Bielorussia ma l'Ucraina che è la piccola Russia e vuole anche porsi come alternativa politico-culturale all'Occidente, il cosiddetto attesi eurasiatica. Eravamo ipnotizzati dal fatto che abbiamo contro noi occidentali, che abbiamo contro di noi delle alternative, un po' alternative economiche, ma molto alternative politiche, cioè noi diciamo solitamente democrazia contro autocrazia. E crediamo, credevamo nel 2011 e crediamo ancora oggi, che il nostro vero nemico sia quello lì esterno, cioè il multipolarismo di questo pianeta, il fatto che è tornata a essere la geopolitica, la disciplina che ci fa capire il mondo, la geopolitica è la disciplina delle differenze inconciliabili fra le potenze. Nel 2011 noi avevamo meno l'idea, che invece oggi è chiarissima, a me almeno, che il vero nemico della democrazia è la democrazia stessa, o meglio è la evoluzione interna della democrazia, non è tanto la nascita della autocrazia, i riproporsi dell'autocrazia imperiale russa, ma sono i fenomeni che prima il neoliberismo e poi la crisi del neoliberismo ha generato all'interno della società e ha generato all'interno del sistema politico, della società, le enormi disuguaglianze economiche che sono di fatto insuperate e fanno sì che ormai tutti sanno che dove nasci lì muori, cioè si è rotto quello che si chiama volgarmente l'ascensore sociale, primo. E secondo le grandi contraddizioni che sono nate a livello politico. La democrazia si fondava sulla separazione dei poteri sovrani e noi vediamo che oggi invece i poteri sovrani anziché essere separati sono più o meno appiccicati e fusi l'uno sull'altro. Il legislativo come tale, che dovrebbe essere più importante perché è quello direttamente rappresentativo della sovranità del popolo, il legislativo è invece al punto più basso della sua autonomia, della sua potenza e del suo potere. L'esecutivo lo è, certamente, è molto più importante. Il potere giudiziario è vagamente conteso fra la propria autonomia e invece i tentativi del potere esecutivo di piegarlo a sé. Poi soprattutto vediamo che la politica ha perduto potere, la stampa, il potere della stampa, perché è un potere essenziale per una democrazia, assolutamente essenziale. E noi sappiamo oggi quanto è in crisi la stampa, quanto la stampa non è più capace di critica, ma è solo capace di farsi veicolo di ideologie di basso livello o di malumori della società senza avere la capacità di riportare il potere politico alle proprie responsabilità, il che è invece l'obiettivo fondamentale della stampa in una democrazia, portare il potere politico davanti alle proprie responsabilità. Oggi la stampa fa parte del problema e non della soluzione. soprattutto è venuto meno non solo il potere della politica e il potere della stampa, è venuto meno la fiducia dei cittadini nella politica e nella stampa. Tant'è vero che nella stampa lo si vede, non compran più i giornali. Nella politica è il cosiddetto fenomeno del populismo, che non è in realtà un fenomeno antipolitico, ma è la richiesta espressa in modo brutale e anche molto semplicistico, alla politica di contare qualche cosa. E noi abbiamo visto in questo paese, in Italia, una serie di votazioni che hanno dato la maggioranza di volta in volta a posizioni o populiste o semipopuliste e gli erano tolta nel giro di pochi mesi o di pochi anni. Abbiamo visto Peppe Grillo con il 5 Stelle, poi abbiamo visto Renzi, poi abbiamo visto la Lega e adesso abbiamo visto la destra. Ogni volta ci sono 10 milioni di voti che ballano in questo paese alla ricerca di una forza politica che riesca a cambiare qualche cosa, cioè a cambiare quei meccanismi sostanzialmente antidemocratici che sono stati innescati prima dal neoliberismo e poi soprattutto dalla sua crisi, crisi alla quale non è stata data risposta. No, noi vediamo che adesso all'inflazione che era ciò che era stato sgominato dal neoliberismo, il neoliberismo nasce contro l'inflazione, bene, all'inflazione non si dà risposta, se non una risposta di vecchissimo tipo, cioè l'innalzamento dei tassi di interesse che genera ovviamente rallentamento della domanda, cioè sostanzialmente impoverisce la società, il che sicuramente non porta consenso. Oltretutto queste decisioni strategiche non sono prese dalla politica, quantomeno non dalla politica italiana, forse dalla politica tedesca, non si sa bene, in ogni caso tutto ciò non serve ad aumentare la fiducia dei cittadini verso la politica. Dunque la democrazia è in crisi, sia certamente perché a livello mondiale il multipolarismo genera le guerre e le guerre non fanno molto bene la democrazia, ovviamente, perché le guerre implicano la fine della discussione, implicano atteggiamenti autoritari all'interno, no, per cui le guerre non fanno bene. Ma la democrazia è in crisi per le dinamiche del capitalismo, del capitalismo finanziario, che sono state scatenate e che non trovano più un freno politico, come invece trovavano le dinamiche al tempo dei 30 gloriosi, perché quei tempi erano tempi di capitalismo, non erano tempi di comunismo, perché a quei tempi la politica contava e riusciva in un qualche modo a tenere in piedi un compromesso fra le esigenze della società e le esigenze del capitalismo. Costringeva il capitalismo ad essere anche un po' sociale. Adesso il capitalismo non ce la fa, non vuole e non può esserlo. Ecco, non vuole e non può. La responsabilità del mondo dell'elite è che non ha avuto la forza di essere la magistratura spirituale della nazione, quale avrebbe dovuto essere, cioè non ha avuto sufficiente ambizione. Dopo la grande ubriacatura di impegno politico fin troppo degli anni 60, nella prima metà degli anni 70, il cosiddetto riflusso è stato anche il ritirarsi degli intellettuali dalla sfera politica, rinunciare a portare idee critiche e impegno reale nella politica e contemporaneamente la politica che si sfaldava, con i partiti che andavano a pezzi, aveva ben altro a cui pensare che non convocare gli intellettuali, parlare con loro, farsi insegnare qualche cosa. Cioè il divorzio fra politica e cultura è un divorzio che ha fatto male tanto alla politica quanto alla cultura. perché le forze emergenti economiche non volevano quel matrimonio, non lo volevano. Pensiamo, sono andati di pari passo gli attacchi anche giornalistici alla casta, cioè contro la politica, e gli attacchi populisti contro gli esperti, gli specialisti, contro la scienza, contro chiunque abbia adoperato il cervello per vivere e per insegnare qualche cosa. Io sono violentemente, ferocemente critico di quello che viene chiamato normalmente il mainstream, per cui non sprecherò nemmeno una parola per giustificare la fine dello spirito critico. La fine dello spirito critico, che è il male veramente mortale della democrazia. Ma perché ci sia spirito critico? Bisogna che la società abbia la speranza che attraverso la critica e la politica qualche cosa cambi. E se invece tu non hai questa speranza, perché ti hanno dimostrato ormai da anni, che non la devi avere la speranza e che il tuo impegno deve essere dedicato a mettere insieme il pranzo con la cena o comunque sia alla competizione e non alla riflessione, beh, allora la democrazia ha problemi. Tant'è vero e tanto vero che non c'è critica che io sono assolutamente contrario a esaltare le guerre culturali che oggi hanno sostituito l'impegno culturale dell'elite e dei cittadini normali. No, oggi noi vediamo che in realtà il mainstream ha generato un contro-mainstream per cui i paesi occidentali sono spaccati in due ma su problemi che sono a volte interessanti ma quasi mai ma quasi mai veramente dirimenti e molto spesso sono faculi. Allora, dobbiamo rallegrarci per la vivacità degli scontri intellettuali oppure dobbiamo compiangere il tempo in cui gli scontri intellettuali c'erano ma avvertevano sui massimi sistemi e non sui minimi sistemi? Io sono per la seconda ipotesi naturalmente. E certo, ma qui c'è un tradimento di tutti verso tutti perché è come se fosse suonato l'allarme del si salvi chi può cioè non crediamo più a un destino comune che non vuol dire unanimità nazionale assolutamente ma vuol dire non crediamo più che la nostra esistenza collettiva abbia un senso crediamo che abbia senso soltanto la nostra esistenza individuale o della nostra famiglia e questo è il vero grande problema tuttavia siccome nel mio libro c'è un punto interrogativo e c'è perché ce l'ho voluto mettere anche l'editore me l'aveva proposto senza ce l'ho voluto mettere perché in realtà nella nostra società oltre a tante finte battaglie ci sono anche delle vere battaglie oltre a tante ipocrisie ci sono anche delle richieste di verità la verità è una parola grossa c'è ancora qualcuno che desidera pensiero critico per fare qualche cosa di pratico ecco ce ne sono tanti di tanti tipi tutti diversi fra di loro non si parlano spesso spesso non hanno una grande cultura e tuttavia quegli intellettuali che hanno ancora piato e voce per fare il loro mestiere possono ancora avere una funzione propositiva presso queste piccole frange di lettori queste frange di persone che capiscono che stiamo entrati in una dimensione che ci sembra un destino il che è esattamente il contrario della modernità per la quale non c'è destino per la quale la nostra vita associata ce la fabbrichiamo noi non ci casca addosso per qualche altro motivo che a noi sfugge ecco allora ce n'è ancora di persone che ragionano così fra i giovani e non solo fra i giovani insieme a tanto mainstream e a tanto anti mainstream di comodo c'è ancora qualcuno che tiene la fiaccola della ragione critica a questo qualcuno è dedicato il mio piccolo sforzo e lo sforzo anche di altri come me meglio di me allora il paese democratico lo vedo ancora incerto e sulla difensione ancora non convinto fino in fondo di dover portare una critica radicale all'attuale corso delle cose al modello economico e all'andamento della politica cioè ancora molto legato ad atteggiamenti reattivi e superficiali reattivi vuol dire che interviene a livello mediatico sempre a livello di botta e risposta senza mai occuparsi in modo radicale di costruire una base culturale e politica solida ora io non è che ho in mente il PC però insomma qualche cosa di meno effimero sarebbe meglio al tempo stesso il partito democratico sta probabilmente capendo i propri passati errori quelli a cui lei faceva riferimento l'avere abbracciato stoltamente il modello neoliberalista l'essersi candidato a governare processi che sono ingovernabili i processi economici come sono oggi non si governano con un partito leggero forse sta cominciando a capire quanto male gli ha fatto il distacco dalla società non a caso la società gli vota contro no società vota partiti anch'essi leggeri e tuttavia più furbi che sanno almeno quali sono i problemi della società poi non li sanno risolvere ovviamente però almeno riescono a nominarli quando ero in Parlamento io la parola neoliberalismo era vietata era impronunciabile dentro il PD per cui pagando con la propria pelle pagando a caro prezzo i propri passati errori forse il PD ha la speranza di diventare un partito robusto cioè un partito a cui ci si possa pensare di rivolgersi quando c'è un problema ecco questo è il punto quando c'è un problema a chi ti rivolgi a nessuno oppure ti rivolgi a un partito d'opposizione il PD sa fare opposizione che non vuol dire sa ripetere ossessivamente dimettiti dimettiti oppure fascista fascista sa costruire alternative reali sa stare dentro la società come ci stavano le forze della sinistra un tempo la nuova segretaria dice di voler fare questo io non sono pronto a scommettere molto denaro sul successo di questa sua di questa segretaria tuttavia tuttavia a tutti deve essere concesso il beneficio del dubbio soprattutto a coloro che se sbagliano pagheranno sicuramente di tasca propria per cui non possiamo dire altro che se sono cose fioriranno è così troppo poco e troppo tardi non era solo è l'unico che l'ha detto è l'unico che dire è assolutamente necessario fornire agli italiani una speranza come ha fatto la destra la destra ha vinto le elezioni perché si è presentata col prodotto completo cioè protesta e proposta che poi la protesta fosse scomposta e la proposta dal brutto all'inapplicabile eppure è vero però la politica si fa così protesta e proposta allora la sinistra ce la fa vedere la protesta e la proposta o no ci crede o no perché la destra in se stessa crede la sinistra ci crede in se stessa io non lo so l'Europa era nata con la prospettiva di essere potenza civile cioè essere un polo d'attrazione egemonico per ricchezza dignità culturale e dignità giuridica che fornita le persone ma in un mondo di guerra quale sventuratamente disgraziatamente oggi è diventato il nostro e un mondo alla deriva un mondo alla deriva come questo l'Europa è un vaso di coccio tra i vasi di ferro se non c'erano gli Stati Uniti Putin faceva esattamente tutto quello che voleva in 15 giorni ora si può dire che quello che voleva è brutto e bello si può dire che la presenza degli Stati Uniti in Europa è una cosa buona o cattiva ma vero è che l'Europa non avrebbe costituito non costituisce un fattore di potenza con il quale le altre potenze si debbano confrontare e questo è questa è storia questo è destino questo sì che è destino la decadenza dell'Europa sì che è un destino dopo essere stata la padrona del mondo adesso altri sono i padroni del mondo anzi non si sa chi siamo perché si stanno combattendo fra di loro proprio per questo noi noi non siamo e dice ci vuole la sovranità europea beh siccome io alla sovranità ho dedicato un po' di studi posso dire che in linea teorica andrebbe pure bene il concetto di sovranità europea ma perché ci sia sovranità efficace ci vogliono delle condizioni di base che in Europa sono lontanissime da esserci lontanissime e nessuno vuole la sovranità europea non la vogliono i tedeschi che vogliono la sovranità tedesca non la vogliono i francesi che vogliono la sovranità francese gli unici che a parole la vogliono siamo noi perché sappiamo che la sovranità italiana è talmente debole che è quasi impossibile volerla ma è male questo ma è male è male perché con la sovranità a livello di Stato non si risolvono tutti i problemi ma qualcuno si può cominciare a risolvere mentre la sovranità europea che magari ne risolverebbe di più ha come controindicazione il fatto che essa non c'è non c'è Grazie.